Vacanze fatali per Mario Quarina che ha perso la vita mentre faceva kite surfing Grecia a bordo di un wingfoil, evoluzione di questa specialità. È accaduto lo scorso venerdì, Mario non si sentiva un gran che ma alla fine ha deciso comunque di cavalcare le onde dell'isola di Lefkada dove si era recato con la compagna svetlana e l'amico di sempre Giovanni Becia con il quale aveva condiviso tutto il percorso scolastico dall'asilo all'Isef a Urbino. Alla base dell'incidente pare proprio esserci stato un malore dalle prime ricostruzioni anche se al risultare fatale dovrebbe essere stato l'annegamento. Quarina è caduto in mare da cui ha provato strenuamente a raggiungere la riva dicono i testimoni zavorrato però dalla corda che lo legava al wingfoil un accessorio di sicurezza che invece è stato letale dal momento che si è torcigliato al corpo e non gli ha permesso di restare a galla. I soccorsi lo hanno riportato a riva ma nulla è servito né la respirazione bocca a bocca al massaggio cardiaco né l'utilizzo del defibrillatore. Le autorità di Lefkada continuano le indagini del caso in attesa dell'esame autoptico ordinato dalla magistratura di Patrasso poi ci saranno le procedure per il rimpatrio per il quale potrebbero volerci giorni addirittura settimane. C'è cordoglio nella famiglia e nel paese di San Pietro al Natisone dove il professore in pensione era molto ben voluto. Quarina era un grande appassionato di sport sia estivo che invernale aveva una grande passione per la neve e per il buon vino sorseggiato in compagnia dei tanti amici. Era stato docente all'Ipsia di Cividale dove gli studenti lo chiamavano Super Mario e nei quali ha lasciato una sensazione di vuoto ma anche un grande ricordo positivo anche se resta ancora difficile capacitarsi della sua scomparsa avvenuta mentre faceva ciò che amava sport.